Per l'intervista di oggi siamo con Giovanni Pieroni, il nuovo delegato regionale di Azione Cattolica per la Toscana. Intanto diciamo la tua nomina fa parte di un percorso di rinnovo delle cariche associative che per l'azione cattolica non sono un segno di potere quanto un segno di responsabilità e di servizio. Sì, sono anche un momento importante perché come ti puoi immaginare sono un momento anche di difficoltà. Noi abbiamo una regola ormai da tanto tempo per cui dopo tre anni c'è il rinnovo delle cariche e dopo due mandati, numero non a caso oggi come oggi, abbiamo il necessario passaggio di mano. Comporta un po' di difficoltà perché trovare persone però che poi si tuffino con spirito di servizio e di disponibilità, questo aiuta tanto perché fa crescere le persone, fa crescere anche l'associazione. Oggi per esempio io mi ritrovo a essere responsabile, anzi il delegato di una delegazione giovanissima. Te pensa che senza di me siamo un'età inferiore 35 anni di media. Questo è un segno buono. Un segno dei tempi direi. Con queste persone cerchiamo di far sì che emerga quello spirito di servizio alla Chiesa e al popolo di Dio che caratterizza l'azione cattolica. Una delegazione giovane in una Chiesa che sta mostrando grossi segni di giovinezza, con un Papa che chiede una Chiesa missionaria, una Chiesa capace di andare verso le periferie. L'azione cattolica come risponde a questa chiamata? Non può che rispondere eccoci. Non può che rispondere eccoci perché sta proprio nell'essere di azione cattolica questa attenzione. Io e gli altri in azione cattolica la vediamo come una tensione costante a stare nel mondo, nella gente, a stare laddove il Signore ci chiama, dove il Signore ci manda, dove il Signore ci pone, in un mondo da amare. Per quel mondo che è. Il mondo che non è perfetto, non è il mondo di ieri, non è il mondo di domani, è il mondo in cui viviamo oggi. In questo mondo siamo chiamati a testimoniare il Signore. Proprio da poco, fra l'altro, l'azione cattolica regionale ha vissuto il suo appuntamento del progetto Cittadinanza. Quindi un modo per dire che i laici cristiani di azione cattolica vogliono essere anche cittadini di questo territorio. Assolutamente, assolutamente. L'essere, come diceva Lazzati, cittadini della storia, richiamandosi a certe figure che sono state importanti nella storia dell'azione cattolica e quindi l'essere presenti nel mondo da cristiani, dare quel valore di testimonianza, credo che sia una delle più grosse aspettative che la Chiesa può avere nei confronti dell'azione cattolica. Certo, anche noi magari patiamo un po', lo vediamo, un po' di difficoltà, magari abbiamo una struttura che forse ora sarebbe il momento anche di rivedere, perché forse un po' troppo, diciamo, lontana dai tempi. Siamo memori di un tempo che oggi non c'è più da questo punto di vista. Vogliamo snellirla per essere più veloci. Un tempo anche in cui l'essere cristiani era più comune, diciamo, tra le persone. Oggi sicuramente l'azione cattolica si muove in un territorio invece di indifferenza spesso verso la religione, magari non di ostilità come c'era più in passato, però spesso di indifferenza o di contrarietà rispetto a uno stile di vita cristiano. Certo, sappiamo tutti che sono caduti quei meccanismi tradizionali, intergenerazionali di passaggio, di crescita e questo è accaduto anche nella fede. Oggi che cosa ci si ritrova quindi? Ci si ritrova a dover affrontare un mondo che molto spesso, come hai detto tu, non è nemmeno stile, ma è lontano, non si pone più il problema. Quello che vogliamo fare, quello che l'azione cattolica cerca di fare con la sua testimonianza, con la sua opera, con un apostolato, anche se è una parola desueta, che oggi, sono convinto, magari a qualcuno dice poco, ma con la sua presenza cerca di essere veramente sale della terra. C'è il tema della formazione che è fondamentale per l'azione cattolica, quello di formare cristiani adulti nella fede. Ecco, cosa significa e come si concretizza oggi questo tema? Guarda, il percorso formativo è una delle parole tipiche di azione cattolica, quindi la formazione, il rispondere alle diverse nuove esigenze del mondo cercando di capire cosa, come portare il Signore. Papa Francesco che ci chiede di uscire e di avere addosso l'odore delle pecore, no ma per andare in mezzo alle pecore bisogna anche capire come andare, cosa proporre, se no anche la pecora a finire ti spintona via. Questo vuol dire che saper portare il nostro messaggio richiede una formazione continua. Perché? Perché il mondo cambia. Tu hai citato, non a caso, il progetto Cittadinanza di domenica scorsa. Effettivamente uno dei temi cardine è stato la novità che ci porta il mondo, la vogliamo affrontare o la vogliamo rifiutare? La escludiamo o ci confrontiamo con essa? Confrontarsi è sempre difficile, perché non è mai un prendere le cose così come erano o così come sono adesso, ma si tratta di rimettersi in discussione. Ma d'altra parte in questo processo non credo ci si possa tirare indietro. È la storia, è la Chiesa, è il Signore che ce lo chiede. L'azione cattolica ha insistito molto in questi ultimi tempi anche sulla necessità di dare un contributo come cattolici alla società, uscire un po' dalle sacristie, dall'ombra dei campanili. Ecco, in questo tempo in cui anche la politica vive in momenti di difficoltà in ambito economico, sociale, ci sono tanti problemi. Che contributo possono dare gli uomini nelle donne di azione cattolica? Allora, è un contributo importante che forse alle volte può passare anche un po' sotto traccia. Perché? Perché l'azione cattolica, per questa sua caratteristica di formare la coscienza della persona verso l'obiettivo di un adulto nella fede, come mi ricordavi tu prima, che cosa fa? Fa tutta una serie di iniziative e di attività che passano attraverso la vita del gruppo, che è un'esperienza fondamentale, perché è la prima esperienza di comunione che si può vivere. E dopo la vita del gruppo ci sono via via i vari livelli che si portano fino a livello nazionale. In questi poi fioriscono le vocazioni, le vocazioni alla politica, le vocazioni a tanti esempi di vita che abbiamo davanti. In questo mi sento di dire che anche in politica l'offerta formativa dell'azione cattolica costituisce un po' la base sulla quale innestare poi una presenza politica. Mi piace ricordare Beatrice Draghetti, che è stata presidente della provincia di Bologna e poi della regione Emilia-Romagna dopo Vasco Errani, la quale disse a un nostro incontro qualche tempo fa, se non avessi fatto la responsabile ACR non avrei potuto guidare la giunta provinciale. L'esperienza dei campi scuola o l'esperienza comunque di guidare un gruppo di bambini o di ragazze in qualche modo serve poi anche per assumersi altri tipi di responsabilità o di servizi? Sicuramente, perché te hai citato un'esperienza che è fondamentale, quella del campo scuola. Innanzitutto lì ti spogli di te stesso e allora pensare al bene comune ti viene normale. Lo puoi trasportare tranquillamente da quella marea di ragazzi vocianti che ti vorrebbero travolgere con il loro entusiasmo, la puoi portare anche in altri ambiti. E poi di lì che cosa viene? Viene anche una grossa responsabilità per noi adulti, perché se parliamo di un dialogo, di una trasmissione della fede che si è interrotta, noi abbiamo il grosso compito di proporre itinerari educativi a questi ragazzi, a questi giovani che poi li portino ad amare la Chiesa, ad amare la politica, ponendoci non tanto come maestri, ma ponendoci veramente come testimoni, perché l'abbiamo vissuto noi in prima persona e stanno a restituirlo agli altri. Questo è anche lo stile con cui l'azione cattolica in qualche modo risponde a quella sfida educativa che i vescovi hanno posto come tema centrale di questo decennio e che poi sarà affrontato proprio a Firenze nel 2015 al convegno ecclesiale nazionale. Ecco, questo stile di educare attraverso l'esperienza, attraverso l'offrire se stessi in qualche modo. Certo, il nostro metodo è proprio il metodo esperienziale. Può essere alle volte stare sui libri, ma sta anche tanto nel vivere. Quello che diceva il Presidente Alici qualche anno fa, la vita come luogo teologico, che cosa significa? Mutuando un altro termine, significa abitare la vita, starci dentro veramente in pienezza. In questo senso ti posso dire che quando facciamo delle proposte che fanno vedere la bellezza della nostra fede, della vita cristiana, non si ottiene mai una risposta negativa. Le persone sono interessate. Poi sta a loro alle volte a fare un passo in più, ma quello che è costante è veramente la possibilità di offrirsi agli altri. Ne sono stato testimone diretto in occasione dell'incontro dei ragazzi, dell'incontro interreligioso fra ebrei, musulmani e cristiani di qualche anno fa, dove di fronte a una proposta che andava anche a persone di fedi diverse, abbiamo visto grande interesse per queste tematiche che ci hanno accumulato. Quindi possiamo dire un'azione cattolica che si ringiovanisce, che tra i tanti problemi che affronta e che conosce, però è ancora una risorsa per la Chiesa e per la società. Io sono convinto che sia una risorsa, proprio in virtù di quella risposta alla sfida educativa che possiamo dare. Abbiamo una grande educazione e una grande tradizione in questo senso. Questa tradizione cerchiamo sempre di mantenere la giornata, di rinverdirla, di non essere mai fermi, perché siamo chiamati noi per primi a camminare e offrire poi questo cammino a tutti gli altri. Grazie a Giovanni Pieroni. Grazie a voi. Grazie a tutti.